Diego Armando Maradona Junior era importante partire subito bene, è vero l'avversario non era sicuramente di elevato cabotaggio però una risposta Catania l'ha data ed è quella che doveva dare anche a tutti? No no sicuramente gli avversari diventano facili perché le squadre più forti diventano, giocano bene, concentrate e fanno il loro dovere, noi abbiamo messo la partita sicuramente dal primo momento sui binari giusti, era una risposta come hai detto tu che dovevamo dare sia a noi che al mister che alla società e niente sono contento per la prestazione di tutti e 12 i calciatori. Senti a parte il gol buona la prestazione è cambiato però è un po' il modo di giocare senza Rodrigo con Majer che sicuramente è un grande campione ma ha una tipologia di gioco totalmente differente. Sicuramente Rodrigo ci dava quell'imprevedibilità, quella velocità e quegli assoli che oggi ci mancano però con Majer che non dimentichiamo che è un campione del mondo abbiamo più equilibrio, abbiamo più gioco di squadra e sicuramente questo peserà nelle partite importanti ne sono sicuro. Domani Viereggio, se andiamo a vedere il calendario è la gara più tosta? Sì, noi siamo abituati forse a dovere le gare più toste subito però prima o poi se vogliamo arrivare alla Coppa dobbiamo battere le squadre forti quindi io credo che meglio oggi, meglio domani che magari in semifinale o in finale perché ti ripeto sono squadre forti e dobbiamo fare il nostro, noi se giochiamo da Catania non dobbiamo avere paura di nessuno anche se abbiamo il massimo rispetto dei campioni d'Europa.